Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora, di nuovo, come sempre, ben ritrovati qua nel disordine della mia biblioteca. Allora, cari signori, approfitto dell'occasione che mi hanno dato alcuni amici chiedendomi di parlare di un personaggio molto particolare del regime fascista, ovvero sia lui, Leandro Arpinati. Vi ricordate quando qualche giorno fa ho parlato del famoso caso dello scudetto 1925 assegnato in maniera fraudolenta al Bologna a spese del Genoa e ho parlato anche del ruolo che il gerarca bolognese Leandro Arpinati ebbe in questa vicenda. E ho accennato anche alla sua opera di vicepresidente della Federcalcio nel caso dello scudetto non assegnato al Torino, quello del 1927, quello del caso Alemandi, il terzino della Juve che, a quanto pare, si dice, sembra, forse, pare, sia stato corrotto da emissari del Torino per vendersi delle partite. Insomma, che certi gobbi ci abbiano il vizio di vendersi le partite, lo sappiamo fin troppo bene. Comunque sia, lasciamo stare, lasciamo stare, perché il sottoscritto si sa bene che quando parla di Juve tutto è tranne che obiettivo e distaccato. Ecco, vabbè. Ragazzi, scusate, torniamo a parlare del personaggio in questione, ovvero sia, ripeto, ripeto, il personaggio è lui, Leandro Arpinati. Russ del fascismo bolognese, personaggio autore di alcune delle più spettacolari, violente e deferate azioni delle squadracce fasciste durante il periodo cosiddetto antemarcia, quando praticamente nella zona dell'Emilia Romagna Arpinati era un nome temutissimo per la sua capacità, tra virgolette, militare, di azione militare. Arpinati fu anche uno dei protagonisti del cosiddetto attentato di Anteo Zamboni a Bologna nel 1928. Arpinati, Arpinati, chi era costui? Allora, il discorso è questo qua. Arpinati, diciamola tutta, non era uno stinco di santo, punto. Nel periodo in cui fu al potere come sodale di Mussolini, come gerarca del partito nazionale fascista, Arpinati, diciamo che ne fece di cotte e di crude, era un uomo brutale, un uomo senza scrupoli, oggettivamente, un uomo che però aveva alcune caratteristiche degne di nota. Allora, esaminiamo un attimo il personaggio. Ho recuperato questo libro, Storia d'Italia nel periodo fascista, di Luigi Salvatorelli e Giovanni Mira. Un'opera risalente agli anni Sessanta che però ha il pregio di essere molto chiara, ha il pregio di esibire dei documenti tuttora validi. Arpinati era stato fondatore e capo del fascismo bolognese nel suo periodo iniziale, il cosiddetto periodo eroico, tra virgolette, come dicono i fascisti. Aveva sempre conservato a Bologna una posizione eminente. Era nato nel 1892 a Civitella di Romagna da genitori operai e fu operaio per molti anni egli stesso. Era autodidatta, un'intelligenza vivace e pronta, una volontà ferrea. Egli era stato nella prima giovinezza anarchico e era rimasto sempre individualista. Al suo individualismo si associava una forte capacità di comando, o meglio, una naturale suggestione autoritaria verso quanti lo circondavano. Sbolliti i furori e gli amori dell'attivismo fascista, egli era divenuto, pur serbando sempre una totale e assoluta fede al fascismo e a Mussolini, una sorta di conservatore liberale o liberista alla Pantaleoni. Era quindi contrario a cose che a Mussolini invece stavano particolarmente a cuore, come l'interventismo statale. Era contrarissimo al corporativismo, mentre il senso dello Stato come tutore dell'ordine e del diritto sviluppatosi in lui, incredibile ma vero, pare, lo rendeva ostile all'ingerenza e all'autorità del partito. Era altrettanto e anche di più, se possibile, ostile alla milizia e altresì era antinazionalista, antimilitarista e anticonciliatorista. Le sue radici di anarchico saltavano fuori. Fu sottosegretario all'interno dal 1929 al 1933. Praticamente fu di fatto, almeno per l'amministrazione ordinaria, il vero ministro dell'interno, dato che Mussolini era impegnato con le sue cariche duciste. Diciamo che Mussolini non aveva tempo per curare la normale amministrazione, l'ordinaria amministrazione anche del ministero dell'interno. Spesso Arpinati si trovò in contrasto con le tendenze fondamentali del regime e con quelli che le incarnavano e le traducevano in pratica. Si aggiungeva a ciò la sua straordinaria libertà di parole, giudicante crudamente uomini e cose. Non aveva voluto imporre la tessera fascista ai funzionari del suo ministero, con grave scandalo nel partito. E ancor più scandalose apparivano certe sue familiarità con antifascisti perseguitati dal fascismo, come quando ricevette al ministero dell'interno Massarenti, famoso organizzatore socialista di Molinella, accogliendolo con simpatia e onore. incredibile ma vero. O che uno dei protagonisti principali delle violenze squadriste che incontra uno dei suoi principali oppositori, a quanto pare, che vi devo dire, aveva cambiato testa? Non lo so. Il giudizio su Arpinati è piuttosto articolato e ne parleremo nel seguito. Dicevo, Arpinati si era così fatto un gran numero di nemici, tanto più che la sua tendenza moralizzatrice, oibò, incredibile ma vero, disturbava una quantità di interessi senza avviare al successo impossibile il suo indirizzo, la cui efficacia si limitava a diminuire in singoli casi i guasti del regime. In quanto Mussolini, egli era stanco di Arpinati, ma ne subiva l'ascendente e non osava liberarsene. Starace, naturalmente ostilissimo ad Arpinati, e desideroso di propiziarsi sempre più Mussolini, sappiamo bene quanto Starace fosse devoto al duce, e disse che Starace voleva levargli questa grossa noia e compilò alla fine della disputa con il ras bolognese un atto di accusa contro Arpinati che rispose con un biglietto ingiulioso, praticamente mandando a fanculo Starace, il somaro, il ragliante somaro leccese. Mussolini chiese ad Arpinati di ritirare le offese fatte a Starace, Arpinati non ne volle sapere e il 4 maggio 1933 dovete lasciare il suo posto di sottosegretario dell'interno. tornato a Bologna da privato cittadino, egli conservava nella sua città una vasta e profonda influenza. Fu tenuto d'occhio per molto tempo e non fu rieletto alla Camera e il 26 luglio 1934 fu tratto in arresto e quindi assegnato al confino per cinque anni. Tornò a Bologna, si ritirò praticamente dalla vita politica, lasciato sorprendentemente in pace, ma scopriremo anche il perché, e fu, si occupò diciamo durante la guerra di nascondere antifascisti, di salvare la pelle a perseguitati dal regime. Non aderì e non volle aderire alla Repubblica Sociale Italiana, ma ahimè quello che aveva combinato negli anni del suo splendore e negli anni del suo potere aveva lasciato pesanti strascichi strascichi che gli costarono la fucilazione ad opera dei partigiani il 22 aprile 1945 nella sua tenuta di Malacappa presso Bologna. Allora, arpinati, arpinati. Ripeto, il personaggio è discusso e discutibile. Ce ne sono tante da dire. Allora, il discorso è questo qua. Come tutti i gerarchi fascisti degli inizi degli inizi era un violento, era un brutale, era uno spietato, picchiatore, senza scopo. Stop. Defini. Era una persona che però aveva una certa indipendenza di giudizio. Defini la Marsa su Roma una inutile pagliacciata. e non aveva neanche tutti i torchi. Secondo me, arpinati fu uno dei pochi che per tutta la sua carriera politica ebbe sempre il coraggio di dire quello che pensava a Mussolini, anche criticandolo, pur mantenendo una ferma, totale e assoluta lealtà nei confronti del Duce. e però questo gli costò parecchi nemici, parecchi nemici, soprattutto due, due nemici. Gli costarono la carriera. Uno era Starace, come ho già detto, cioè logicamente Starace, l'utile idiota del Duce, il fedele cretino, il totale e assoluto imbecille che obbediva come un'occhetta ai desiderata del Duce. L'uomo che fu devoto più di ogni altro al Duce, l'uomo che fascistizzò lo Stato, l'uomo che ridusse il partito nazionale fascista ad una caricatura, ad una macchietta, ad un ingombrante carrozzone burocratico che sclerotizzò il paese invece di, come dire, rianimarlo e rinvigolirlo nelle intenzioni, come era nelle intenzioni del Duce. La fascistizzazione della società italiana si tradusse semplicemente in una sequela di pagliacciate. Ecco, e Arpinati non lo mandò certo a dire a Starace, gliene disse di tutti i colori. La loro inimicizia era nota, era molto nota la loro inimicizia. Inimicizia che c'era anche tra Arpinati e Farinacci, il ras di Fremona. I due si odiavano, punto e basta. I due non si potevano vedere, i due non si potevano soffrire, perché erano persone profondamente diverse. Cioè, allora, Farinacci, come ho già detto più di una volta, era stato soprannominato da Goebbels un maldestro imbecille. Ma la parte lo soprannominò come Lupo Vigliacco. Allora, Farinacci, calcolatore, traffichino, corrotto, ricattatore, abilissimo, perché come ben sappiamo, come ho già parlato circa un anno fa, quando ho recensito i libri di Fasanella e Cereghino sulla corruzione del regime, che riportavano i documenti della segreteria personale di Mussolini, dicevo, Farinacci era un ricattatore, ricattava Mussolini, ma allo stesso tempo ne veniva ricattato. Perché Farinacci conosceva i segreti del delitto Matteotti, conosceva i segreti delle tangenti versate alla famiglia Mussolini per il tramite di Arnaldo Mussolini, il fratello del Luce, e ne approfittò ampiamente per farsi i cazzi suoi a Cremona, anche se fu sempre tagliato fuori dalle leve del potere centrale. E gli uomini di Farinacci praticamente rimasero in sella al potere economico cremonese e nei dintorni di Cremona più o meno fino agli anni settanta, per dire quanto era radicata l'influenza di Farinacci in quella zona. Arpinati lo odiava, lo detestava, ne aveva la stessa opinione che ne aveva Goebbels, maldestro imbecille, Somaro calzato e vestito, Capitan Tettoia, il soprannome di Capitan Tettoia glielo diede Arpinati a Farinacci e pare che frutto della linguaccia di Arpinati sia anche il soprannome di Martin Pescatore dedicato a Farinacci quando perse la mano per pescare pesci nella gotana con le bombe a mano. Pare che sia opera di Arpinati, ma non è sicuro. Dicevo, quando Arpinati cadde in disgrazia però, 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 però aveva bisogno di un appoggio. Dice un detto Tienti stretti gli amici ma tieniti ancora più vicino i tuoi nemici. E Arpinati, con una mossa molto abile, spregiudicata, ma molto abile perché conosceva bene i suoi polli e sapeva bene come ragionava Farinacci e sapeva bene il potere ricattatorio e le abilità di ricattatore che aveva Farinacci, per salvarsi la pelle prese e consegnò i suoi dossier sul regime, sulla corruzione del regime, sulla corruzione dello stesso Mussolini a chi? Esatto, a Farinacci. Dal 1929 al 1933 Arpinati, ripeto, fu sottosegretario al Ministero dell'Interno gestendolo invece in sostituzione di Mussolini che era impegnato a fare il Duce. E questo gli dede il destro di raccogliere una massa di dati, di informazioni, di dossier impressionanti a proposito del regime, della corruzione, delle ruberie, dei segreti innominabili della famiglia Mussolini, ripeto, le tangenti versate al Duce tramite il fratello Arnaldo. Ecco, e tutti questi dossier erano un'autentica bomba. Arpinati sapeva benissimo che con la sua caduta in disgrazia, con la sua cacciata dal Ministero dell'Interno era poco più di un morto che camminava e aveva bisogno di qualcuno che custodisse i suoi dossier, che custodisse i suoi archivi segreti, che custodisse le notizie, le, come dire, le fonti, le, come dire, sì, insomma, i dati sulla corruzione, sulle ruberie, sulle strutture, sull'incapacità dei gerarchi e anche di Mussolini, a cui però, ripeto, paradossalmente, Arpinati rimase sempre fedele, rimase sempre fedele, fino a che non scoppiò la catastrofe. Ma questo è un altro discorso. dicevo, Arpinati fece la furbata clamorosa di, una furbata clamorosa e intelligente di consegnare a Farinacci i suoi dossier in cambio di protezione, perché sapeva bene che la sua vita non valeva più un soldo bucato dopo la sua cacciata dal partito, dopo la sua cacciata dal Ministero dell'Interno. Sapeva bene che lo aspettava il confine, sapeva bene che rischiava anche il carcere, sapeva bene che rischiava grosso. Ok? E fornendo al suo arcinemico Farinacci le carte in suo possesso per ricattare ulteriormente Mussolini, oggettivamente questo era, se vogliamo, un mezzo colpo di genio, perché mise nelle mani di Farinacci un'arma contro il Duce e Farinacci Farinacci riuscì, cioè come dire, fornì a Arpinati quantomeno la garanzia di avere quantomeno salva la pelle e le proprietà della sua amatissima tenuta di Maracappa, quella dove venne ucciso. Ok? Il personaggio Arpinati, ripeto, al netto di tutte le carognate che ha fatto, di tutte le violenze di cui si è reso colpevole, al netto della brutalità con cui agì nel cosiddetto periodo eroico del fascismo bolognese, pestaggi, bastonature, la distruzione dei caseifici delle cooperative, gli assalti alle redazioni dei giornali antifascisti, le minacce, le violenze perpetrate nei confronti degli antifascisti. Insomma, gente, Arpinati tutto era tranne che uno stinco di santo. Ma, ripeto, la sua figura va quantomeno analizzata perché fu uno dei pochi, uno dei pochissimi a osare criticare l'operato del Duce e a osare scagliarsi contro certi aspetti clamorosamente suicidi del fascismo. Il corporativismo, l'ingerenza negli apparati dello Stato, la fascistizzazione di tutto l'apparato burocratico statale. Ok? Era una posizione inaudita in un regime come quello fascista dove il Duce obbediva, tutti gli altri comandavano, cioè tutti gli altri obbedivano al Duce e stop. E' questo che deve interessare più che altro, cioè è questo che rende interessante il personaggio Arpinati. Ripeto, un uomo brutale, un uomo brutale, violento, un uomo che comandò con ferocia le squadracce fasciste durante la conquista del potere da parte di Mussolini e da parte delle camicie nere. E' un uomo ripeto, violento, un uomo brutale, un uomo che però seppe se vogliamo cambiare nel corso degli anni. Anche. Dimostrando spirito critico, autonomia di pensiero e dimostrando anche di essere uno che aveva le idee chiare in proposito. Fu uno dei pochi che osò a dire a Mussolini Duce se si va avanti così facciamo una brutta fine. Fu uno dei pochissimi a dirlo. Di sicuro non lo disse Farinacci, cioè Farinacci che si atteggiava a quello che dice le cose come stanno, quello che parla chiaro. In realtà Farinacci era un un maldestro imbecille, cioè la definizione di Goebbels su Farinacci è illuminante sul personaggio. Farinacci era un tronfio vanesio e borrioso fanfarone, un pericolosamente borrioso fanfarone, un uomo dagli scarsi scrupoli e dalla morale veramente rivoltante. Arpinacci ripeto ebbe almeno il merito nel corso degli anni di cambiare in parte il suo pensiero e di criticare anche apertamente e sappiamo quanto questo gli costò il regime. Un fascista critico rubando la definizione di Giordano Bruno Guerri per Bottai un fascista critico solo che rispetto a Bottai Arpinati pagò molto cari le sue critiche nei confronti del fascismo. Rimase sempre fascista Arpinati, rimase sempre fedele al Duce anche se lo ricattava con i suoi dossier tramite Farinacci. Che dire su di lui? un uomo che gestì le leve del potere con spregiudicata abilità perché Arpinati era abile nella gestione del potere. Non stiamo a girarci intorno. Il suo ruolo nell'attentato di Zamboni nel 1928 a Bologna andrebbe esaminato con cura non se ne è mai saputo molto c'è un ragazzino quindicenne un anarchico quindicenne che spara al Duce e che viene linciato dopo 30 secondi insomma ha sempre puzzato molto quell'attentato contro Mussolini e che Arpinati si sia comportato spesso come un boss mafioso grazie al fatto che era sottosegretario all'interno credo sia fuori discussione. La sua morte viene spesso citata in ambienti nostalgici come prova delle brutali violenze dei partigiani diciamoci anche la verità oggettivamente non è che venga citata così spesso come altri casi perché la destra nostalgica italiana non ha mai amato molto Arpinati perché Arpinati nel bene e nel male era un uomo libero ripeto un personaggio discutibile estremamente discutibile per la sua violenza per la sua brutalità per la sua spietatezza per la sua mancanza di scrupoli ma 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 gli va riconosciuta quantomeno la sincerità la schiettezza e la brutale franchezza nell'esporre le sue critiche al regime e allo stesso duce ripeto pur rimanendo fieramente fortemente fascista e fedelissimo Mussolini una contraddizione io non posso sì 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 è una contraddizione non credo che possa essere definita altrimenti un uomo contraddittorio anche un uomo contraddittorio un uomo la cui vita insomma un uomo la cui vita fu segnata dalla violenza un uomo la cui vita fu una clamorosa nemesi diciamo che il karma lo colpì brutalmente quando a Malacappa durante la guerra protesse gli antifascisti protesse alcuni antifascisti stabilì contatti con alcuni con alcuni partigiani stabilì diciamo contatti anche con il comitato di liberazione nazionale dell'alta Italia ma 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 quello che aveva combinato negli anni del ventennio negli anni in cui era salito al potere negli anni in cui era il potente e indiscusso ras fascista di Bologna gli costarono la sanguinosa vendetta di cui fu vittima un omicidio avrebbe dovuto essere processato sicuramente ma ripeto quando si tratta di certi argomenti a costo di essere impopolare a costo di far incazzare certa gente io non posso far altro che ricordare quell'antico detto che dice che chi semina vento raccoglie tempesta e che quando hai sparso le piume del pollo che hai ammazzato in giro è un po' recuperarle tutte altro detto di San Filippo neri questo e purtroppo Arpinati pagò estremamente cara la prima parte della sua vita della sua carriera politica cercò di riscattarsi durante la guerra con la sua posizione scontò la condanna al confine al confino scusate fu cacciato dalle leve del potere gli fu tolta la tessa del partito fascista e sappiamo quanto era importante la tessera del PNF nell'Italia del ventennio e morì travolto da quello che aveva seminato vent'anni prima brutto sicuramente sì ingiusto probabilmente ma sappiamo bene che la vendetta come dire cova a lungo a lungo Arpinati pagò molto pesantemente quello che fece negli anni della conquista del potere da parte del fascismo ripeto non era uno stinco di santo non va neanche trattato come martire va ricordato per quello che era cioè un gerarca fascista che conquistò il potere con la prevaricazione la violenza e il ricatto ma che seppe essere uno dei pochi ad avere spirito critico e libertà di pensiero nel regime fascista e questo qui ahimè non bastò a salvargli la vita la mia è un'analisi sicuramente superficiale del personaggio Arpinati e adesso cari signori tocca a voi il compitino che vi do ora è quello di come dire parlate di Arpinati ho detto cazzate su di lui ho detto boiate ci sono considerazioni da fare sul personaggio Arpinati ci sono i commenti io ripeto i miei limitati mezzi per analizzare la figura di Arpinati li ho come dire sfruttati cioè ho cercato di capire chi fosse Arpinati ripeto a questo punto ho esposto le mie considerazioni adesso cari signori tocca a voi parlare di questo personaggio che cosa avete da dire che cosa ne pensate che cosa come dire potete aggiungere a quello che ho detto sul personaggio Leandro Arpinati ripeto un uomo violento un uomo contraddittorio un uomo che ha pagato carissimo quello che ha fatto un uomo che va comunque ricordato tra i più peculiari elementi della corte di Mussolini uno dei più peculiari e più diciamo interessanti personaggi tra i tanti ras del fascismo italiano degli anni cosiddetti eroici come lo chiamano loro anche se in realtà di eroico ebero decisamente poco e un personaggio che ha lasciato nell'immaginario collettivo italiano alcuni segni profondi soprattutto nella sua carica di vicepresidente della Federcalcio vedi il caso dello scudetto del Bologna vedi il caso della revoca dello scudetto del Toro quindi cari signori ripeto aspetto le vostre considerazioni su Leandro Arpinati il canale è come sempre a vostra disposizione ok quindi vi ringrazio per l'attenzione e come sempre arrivederci al mio prossimo video ci vediamo